Il solo divieto di dimora nel comune di Barcellona e Messina è la misura imposta dal GIP del Tribunale Barcellonese da Lino Maffa a Vincenzo Miano di 51 anni accusato di violenza sessuale aggravata su minore di età inferiore ai 14 anni. L'uomo, secondo le indagini condotte dalla polizia giudiziaria, avrebbe violentato in più occasioni una ragazzina di 13 anni, figlia della donna con cui l'uomo aveva una relazione e con la complicità del silenzio della madre della minore. Miano, già noto alle forze dell'ordine perché condannato a seguito dell'operazione pane proibito condotta dalla polizia di Gioia Tauro, era ricercato da due giorni. Una volta rintracciato, la polizia gli ha notificato il divieto di dimora nei territori di Barcellona e Messina dove la ragazzina attualmente è ospitata in una struttura protetta. Respinta invece la richiesta di misura cautelare nei confronti della madre e dell'adolescente, una donna di 39 anni che pur informata dalla figlia aveva tenuto nascoste le violenze. L'inchiesta è partita da una denuncia presentata dagli operatori sociali di una struttura per minori di Messina ai quali la ragazzina aveva confidato gli abusi subiti dal compagno della madre. In tempi rapidissimi è partita l'indagine coordinata dalla procura di Barcellona che ha costituito negli uffici giudiziari un apposito gruppo di lavoro. Il pubblico ministero aveva chiesto l'arresto di Vincenzo Miano e della madre della ragazzina. Il GIP Danilo Maffa ha invece ritenuto adeguata solo la misura del divieto di dimora e nessun provvedimento nei confronti della mamma della ragazzina.